Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video di GTA 5 siamo in compagnia di Caristo Imperatore Bella! Andiamo in questo last team che fa guadagnare molto Tutti Una figlia pazzesca Ma no! Ma che cosa sono volato? Aspetta che mi dici no! Ma noi abbiamo lì insurgenza Ho meglio questi qua, ecco Già sono arrivati sopra questi, perfetto Vabbè, sta tranquillo Ma c'è arrivo pure io Sta tranquillo Nooo Che mori più insurgenza Ma lepati! Bene ragazzi Ora No, ma va a cagare Sì 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 Per sbaglio Io ho preso una rampa e sono andata a finì fuori dal last team Sì Che cosa? Meno uno Sono andata a finì fuori dal last team perché ho usato la zentorno come rampa e sono andata a finì fuori mappa Avevo un'altra Avevo un'altra Caristo 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 Guarda io qua sono vuoto per non farmi piacere Sì E ci sto pure io Vai vai uccidola a quest'olto Sì 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 Sto guardando a Caristo e la sua potenza del suo casco che fa veramente molto schifo Ma vai sembra il casco della Vespa che mi prende Mamma mia L'ho preso però non è morto Fammi culo Ma perché andrò tanti casco veramente? Sì Mi prende la Vespa Fai un mid Allora Sai visto allora sai cosa devi fare? Allora aspetta un attimo Sì aspetta qua sotto Vai Sì abbiamo vinto Chi è? Chi è? Che campione ragazze Per lei devo fare il talibano per una volta Non mi andava a fare 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 Oggi siamo i prescelti Oggi siamo i prescelti Dai io vado cazzo intorno Vabbè io devo fare proprio la strage delle topi gemelli per forza Dai Dai che riesco forse a partire Se ce la faccio No raga va a cacciare No raga io non vado più con l'aereo Raga io sto sopra Io sto sopra L'imperatore non riesco a giocare Arrivo 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 No è troppo lungo E' l'uomo dal fagato Allora Io raga non riesco Ah 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 Grande X Dark Ring Ralalalalala Grande X Dark Ring Esplodo Con i nemici che mi vanno addosso Solo che loro Non si vuole un cavolo E servono Cioè sai che cosa L'aereo serve alla fine Quando ce ne stanno un po' E' l'uomo dal fagato 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 Al primo colpo ragazzi Oh un altro colpo via a me State buono eh Ah no merite Oddio Ecco io E' l'uomo dal fagato Ed è l'uomo dal fagato Ah 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 In un minuto questo video si chiama i traditori della patria proprio ma vabbè dark ed è giù me l'hai ucciso proprio male duramente sì ma in realtà a me quando non c'era di dark ed è legato di brutto vabbè ormai ce l'aresti assabituato anzi no sii e vai vincolo un altro round no non si rota tutti i rotti che l'ho fatto io in questo canale non l'ha fatta nessuno sii raga non mi mettete sotto raga non mi mettete sotto dark ed adesso a me la sta fuggendo di uscire ecco si attenti qua samu sposta che qua scordano le macchine l'hai fatta davanti ucciso mamma mia doppia una da puntillo io non lo stavo a sparare se no mi suicidavo poi erano dolori eh io pure raga attenti e venite qua che è meglio ma questo deve andare ma non si è avvicinato il sistema poi si è avvicinato il piano e lo sto dicendo oh si è buono oh si è arrivato oh si è avvicinato l'ho ammazzato raga dove sono dove sono io ok sotto la macchina raga sono finito sotto la macchina c'è uno che bello ecco perché ho detto che metterà get on the way cacchio di tuoi cacchio di tuoi raga se vincemo tutti i round è da tipo 50.000 va verto no mi sa 60.000 allora raga a 120.000 like vado a baciare caristo che schifo allora non lo faranno solo per questo è troppo bello per essere baciato raga mamma mia ragazzi ma raga ma qua si può andare con la radio penso di sì sì però ma ragazzi saliamo subito sulla rampa e spacchiamo il culo io lo ho detto io lo ho detto ce la devo fare ce la devo fare una volta ce la devo fare date prima voi io via la minica no lì qua no perché l'eminizio si è fermato voleva via la minica no uno è salito uno è salito ecco io via la minica così lo ammazzo no è caduto è caduto mi sono andato addosso ed è esploso ma che ragazzi casi a parte mamma mia ragazzi io sto cammini che adesso salito sui cammini è tutta posta tutta posta raga lo inseguo ma dai ma guardalo stappi all'aereo mi metto davanti stappi all'aereo dove lo faccio partì nooo c'aveva la minigun non lo sapevo era questo lì dentro c'aveva la minigun ragazzi state attenti mi ha ammazzato io ero venuto per sbloccare l'aereo ma ti chiedi veramente di questo ma raga quanto fa schifo oddio sta venire sulla rampa sta venire sulla rampa ma io ma un figlio che è a piedi tipo una persona a piedi che sta scappando come si sta con giud come ce la fate uccidere non si vede ma questo tizio ma questo tizio stappavo male ragazzi comunque attento perché ti ricordo è sempre che sto qua c'è la minigun booo è morta un bravo da arkeb non come studiazione se è suicida il gruppo non vivo non lo conosco ancora ancora insisti un like per che si fa le illusioni no si fa i bong di gta pochi se ne fa già forse uno è in drugga e c'ha ragione no 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 sto arrivando no dai che sono sceso dai che sono sceso oh uno che sta sotto e volviene a dare una botta auto con fuoco si sta bruciando la auto prima che è esplodata devo cambiare no 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 mi è toppo davanti per paura che esplode guarda abbiamo vinto di nuovo la mamma mia siamo best pro sveglio demi 2 la vendetta oh ma guarda demi testa con noi oh madonna po' antipatico non ti passa in macchina oh mamma mia cioè chissà che persona è oh chissà dove abita per me è di roma oh ma non so deminizza deminizza è milanese per me abbiamo vinto abbiamo vinto mamma mia mamma mia allora vediamo il bottino 16.000 16.000 no ma è poco perché se vuoi dice io quando l'ho fatto l'ho fatto tipo in 10 allora ragazzi per questo video è tutto io ringrazio caristo e imperatore per aver partecipato il video grazie a te lasciate like per ogni cosa poi commentate condividete soprattutto iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto qui da darkhead imperatore caristo è tutto ciao ciao ragazzi ciao bella gente